Benvenuti nella mia casa, sperando che anch'io sia benvenuto nella vostra. Sono stato interpellato per parlare di coscienza, un argomento profondo, difficile forse. Prima di farlo vorrei rendere omaggio al mio maestro Leo Amici, fonte di sapere e di conoscenza. Credo che ognuno di noi sia anima, o meglio, che ognuno di noi sia esatta fusione tra anima e corpo. Credo che l'anima senza il corpo non possa esprimersi e l'anima dunque è ciò che anima nel senso di animare il nostro corpo. È la vita dentro di noi che da sempre è e per sempre sarà, che esprimendosi attraverso di esso, il corpo, ne usa tutti i componenti fisici e morali per raggiungere il suo scopo, quello di esprimersi, appunto. Non è dunque il cervello che ragiona, ma è l'anima che lo usa per esprimere il proprio pensiero, la propria dimensione, il proprio intento. L'anima dunque è l'essere pensante, l'entità che è cosciente di se stessa e di ciò che la circonda. Entrando però in un corpo per la sua nascita sul pianeta, nascita utile alle proprie espressioni, alla vita nell'universo con uno scopo ben preciso, usa l'apparato cervello e ne incide in quella sede i primi ricordi come persona. Perfetta integrazione tra anima e corpo. La coscienza è ciò che rimane della consapevolezza di essere e cioè di vivere, ma è dal momento delle prime registrazioni nel cervello che inizia il percorso della vita su di un pianeta. La coscienza dunque credo si possa definire il cervello dell'anima. È contenuta infatti nell'anima, ma non ha un contenitore appropriato, in quanto la coscienza è eterna, perfetta, come l'anima che la contiene e quindi potrà esprimersi nella propria totalità solo in un corpo perfetto e cioè in quello dell'eternità. Come la scienza ha ben descritto, in natura nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si muta, si modella, si perfeziona attraverso il tempo. L'attuale corpo è mortale, è attraverso il tempo suscettibile di deterioramento. In questa dimensione l'anima non è cosciente, se lo fosse avrebbe ricordo, conoscenza e consapevolezza di un tutto e non potrebbe scegliere, nell'incertezza, nell'indecisione e nella ricerca del vero che ci contraddistinguono, nella nostra attuale condizione non potrebbe scegliere, non potremmo scegliere tra bene e male. Non scegliendo dunque, la persona non eliminerebbe il male tradendo la propria funzione e lo scopo principale della sua presenza sul pianeta. La materia male è energia negativa, la cui natura intrinseca è forza distruttrice che si contrappone all'energia positiva del bene che costruisce, lentamente ma costruisce. L'impulso della coscienza si fa sentire quando siamo chiamati alla scelta tra bene e male. Seguendola ci guiderebbe per la giusta scelta, quella che corrisponde alla realizzazione del nostro sé. Se quell'impulso fosse ripetutamente ignorato però, si potrebbe arrivare al ribaltamento della coscienza stessa e cioè al suo contrario. Si farebbe sentire attraverso gli scrupoli quando scegliessimo il bene, l'esatto contrario dunque della sua vera natura. L'essenza di vita, il filo d'erba, i fiori, gli uccellini, gli insetti, i piccoli animali non hanno coscienza in quanto, non avendo un'anima ma essendo essenza di vita, non devono scegliere tra bene e male e non devono corrispondere dunque di un compito ben preciso come quello pur nella libera volontà di ognuno di noi, della persona. L'essenza dunque segue ciò che è impresso nella natura del loro seme ed è per questo che ripete a cicli continui i propri stessi ritmi e meccanismi. La persona invece è adatta pur nella libertà ad eliminare il nemico male ed anche ad eliminarlo per sempre. Francis Collins, genetista statunitense, guida dei ricercatori che hanno decifrato il genoma umano, scopre in esso ciò che gli stesso definisce la firma di Dio e cioè che è insito nel nostro DNA, addirittura la coscienza ne ha impresso il proprio carattere, la peculiarità che distingue l'essere umano dagli altri esseri viventi. L'uomo sorride se si rivolge al bene, si disturba, se ne dispiace, se ne risente del contrario. È con questa coscienza che vi saluto e vi ringrazio, augurandovi di saper affrontare con lungimiranza, pazienza e amore questi nostri tempi così difficili. Almeno io cerco di farlo. Allora grazie ancora e auguri, auguri a tutti. Ciao.